Per questo venisse, this greeting must be, first of all, towards the institution and the federation present here. Lo ricordiamo la Federazione Mondiale di Waterski e Weibo, la Federazione Nazionale Italiana, il Comitato Organizzatore, ovviamente la provincia di Milano e questa splendida struttura dell'idroscalo. Io non so dove andare, I don't know where to walk, maybe I will go in the water, into the water. Ok, let's go on, this is the other, Austria.